Qua la macchina numero uno, come sempre parte per prima la OM perché la OM ha vinto la prima mille miglia del 27, abbiamo Jeremy von Matt e Karl Heinz Cook dalla Svizzera, grazie mille, thank you very much for being here and for being number one and enjoy the weekend, thank you. All right, thank you, enjoy the race, thank you very much. Le OM partono come dicevamo, le OM per prime per festeggiare questa marca fresciana. Marco, abbiamo il primo equipaggio americano. Godetevi questo weekend meraviglioso, grazie. La prima macchina italiana, una OM macchina italiana bresciana con la sua targa italiana e equipaggio italiano, Mauro Gianzante e Sandro Prozzetti. Buon weekend e mi raccomando. Buon weekend, mi raccomando. Un'automobile dalla Germania, questa volta Oscar Baumann e Alfred Schmidt. Vi wünsciamo una buona attività e ovviamente tutto bene per la sua parte. Una grande marca, Presciana. Presciana che ormai fa parte della IVECO. Officine meccaniche. E guardate che pezzo fantastico sta salendo in questo momento, la numero 10, Craig Calder e Tony Sushani, con una Alfa Romeo G1, questo è veramente la Brescia, grazie mille, complimenti. Ed ecco Goyle Feltes e Felix Feltes sulla Bugatti Brescia Corsa. Buongiorno Goyle, buongiorno a te. E arriva ancora una Bugatti, il numero 14, a Bordeaux Luigi Camini, Raymond Jennings, una Bugatti B35A, vi auguriamo veramente un ottimo fine settimana, il 925, un bolide giallo, impressionante. Buon giorno a te andessero, buon giorno a te orando e veidedvi Tuesdayppi nuovo Luca Bertini in caros Spilecki in Ehemersa è besta, però 6,000 km cercetare, come siete domani i��i subito di mestri questa September? 700 tifo,é v Alberto Can Лisari? Luca Sant inventor sociedade Vogtierini con l'A-ель, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.